la seconda vita di gabriel garco dopo il coming out in mondo visione al grande fratello vippe averissimo il divo torinese ha rivoluzionato la propria esistenza a partire da quella professionale se prima era praticamente sempre sul set oggi era meglio dedicarsi maggiormente al proprio privato e coltivare i propri interessi e l'amore per gli affetti stretti tutto è più leggero adesso che non deve più mentire sul proprio orientamento naturalmente continua ad essere amato dal pubblico forse oggi più di ieri intervistato dal corriere della sera garco si è raccontato a 360 gradi spiegando anche perché segue la regola della nutella capitolo stranezze e fan pochi giorni fa ad attenderlo fuori dal cancello di casa c'era marilyn monroe uno scherzo no perché tale donna nonostante l'arrivo della polizia ha continuato a dire che lei era la compianta diva bizzarri e si devo ammettere che succede spesso di trovare qualcuno fuori da casa mia qualche sera fa stavo rientrando e ho visto questa donna biondissima con abiti vistosi proprio all'ingresso così ho tirato dritto e ho chiamato la polizia ma lei agli agenti ha detto questo che era marilyn il divismo sta scomparendo quel senso di etereo che davano gli attori di un tempo non c'è più maledetti o benedetti social garco rappresenta ciò che resta di quel concetto e lui stesso lo sa bene ho vissuto la coda del divismo che con i social è un po morto confesso che le persone mi cercano sempre molto ma certe serate certi eventi non esistono più una volta in una di quelle occasioni mi hanno anche lanciato un bambino per fortuna la persona della sicurezza vicino a me lo ha preso al volo meno 7 più impegno in ciò che lo stuzzica per questo dopo anni e anni di corteggiamento da parte di ballando con le stelle stavolta ha detto sì e infatti eccolo in pista guidato dalla regola della erano 17 anni che milly carlucci ndr me lo chiedeva ora è arrivato il momento giusto anche per una questione di tempi prima ero sempre sul set mi criticano dicendomi che avevo già studiato danza ma non è così ho solo girato un film valentino in cui danzavo ma questo non fa di me un ballerino anche perché nella mia carriera ho sparato a chiunque questo non fa di me un assassino